Il partito democratico presenta la lista a Campobasso la prima uscita dei candidati consiglieri che appoggiano Veneziale nella corsa alla presidenza solo un uscente il 21 si apre il congresso. Aperture nei festivi si riaccende la polemica anche nella settimana santa molti negozi sono rimasti aperti decisione contestata dai sindacati ma anche dalla curia. Il ministero premia le antiche ricette 10 quelle riconosciute al Molise che si lascia alle spalle regioni importanti i piatti della tradizione a base di pesce valorizzati dalle politiche agricole. Borghi d'Italia, sesto Bagnoli del Trigno, ottimo risultato della perla del Molise nella classifica stilata dalla trasmissione Chilimangiaro, paesaggio e piante officinali gradite alla giuria. Si recupera domani la ventisettesima giornata, Campobasso in trasferta all'Aquila senza Ribeiro infortunato rientrano Capozzi e Landi che hanno scontato la squalifica. Buon pomeriggio e benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Presentata a Campobasso la lista del PD che correrà alle prossime regionali, una squadra rinnovata con molte figure che arrivano dal mondo delle professioni, ha detto il segretario Michela Fanelli. All'incontro presenti anche Frattura e Veneziale per un ideale passaggio delle consegne. Sentiamo Pasquale Di Bello. Il PD riparte e dopo la sonora sconfitta subita alle elezioni politiche del 4 marzo scorso prova a riaffilare le armi in vista dell'appuntamento fissato sul calendario al 22 aprile. Sarà quello delle elezioni regionali infatti il vero banco di prova per il gruppo dirigente molisano finito da tempo nell'occhio del ciclone. Oggi a Campobasso la conferenza stampa di presentazione della squadra chiamata a correre per un obiettivo che appare in salita. Il PD infatti in cinque anni ha perso l'intero gruppo consigliare. Dei cinque consiglieri eletti nel 2013 nessuno è più candidato tra le fila del partito. Unico volto noto all'interno della squadra attuale è quello dell'assessore uscente alle politiche agricole e all'ambiente Vittorino Facciolla che però a suo tempo venne eletto nella formazione Unione per il Molise. Il resto della lista come ha sottolineato con soddisfazione il segretario regionale del PD Michela Fanelli è composto da volti nuovi buona anche la presenza femminile e quella di figure attualmente impegnate nelle amministrazioni locali. A fare gli auguri alla nuova squadra diversi big del partito a partire dal presidente uscente della regione Paolo Di Laura Frattura che ha sottolineato come la vera discontinuità sia rappresentata da una stagione di sacrifici, quella incarnata da lui, ad una stagione di benefici, quella che nella visione di Frattura dovrebbe essere impersonata da Carlo Veneziale qualora conquistasse la regione. Veneziale dal canto suo ha parlato di politiche per il lavoro e fasce deboli ma il tema della discontinuità che tanto ha appassionato il dibattito elettorale di questi ultimi mesi non lo ha proprio toccato. Frattura invece ha ribadito il suo impegno in campagna elettorale focalizzato a comunicare ai cittadini le cose fatte in questi anni. Presenti all'incontro per gli auguri di rito a tutti i candidati anche il sindaco di Campobasso Antonio Battista e la deputata uscente del PD Laura Venitelli. Tra le priorità del programma elettorale di Donato Toma, candidato presidente del centrodestra, la riorganizzazione della protezione civile regionale. Negli ultimi cinque anni di governo frattura, ha osservato Toma, c'è stato un progressivo smantellamento di un sistema che proprio a causa della natura del territorio molisano va invece potenziato. I nostri obiettivi a concluso sono quelli di creare un sistema in grado di fronteggiare con efficacia ed efficienza nelle fasi di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze ogni tipologia di rischio presente sul territorio regionale. Lo stato dell'editoria locale, il sostegno pubblico e gli uffici stampa al centro del confronto che i rappresentanti dell'ordine dei giornalisti e dell'assostampa molise terranno con i candidati presidenti alla regione molise. L'incontro ci sarà domani alle 10 nella sede dell'assostampa a Campobasso. Anche durante la settimana santa e nei giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo alcuni negozi sono rimasti aperti. Ha ripreso così vigore la polemica di chi chiede le giornate di riposo per i lavoratori. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Cresce con il passare degli anni il numero delle attività commerciali che restano aperte anche nel giorno del lunedì in Albis. Nonostante le polemiche e gli appelli al rispetto della sacralità della domenica e più in generale dei giorni di festa, anche quest'anno non sono mancati negozi che sono rimasti aperti. A Campobasso, anche a Pasquetta, alcune attività della grande distribuzione sono rimaste aperte al pubblico per offrire un servizio in più alla clientela che, anche in una giornata di festa come quella del lunedì dell'Angelo, non ha rinunciato a fare acquisti, come se si trattasse di una giornata qualunque. E come accade ormai da qualche anno, c'è chi è favorevole all'apertura anche nei giorni festivi perché viene comunque garantito un servizio alla comunità e chi invece è contrario perché il giorno di festa deve rappresentare un momento per riunire la famiglia ed a dedicare al riposo. Una polemica che va avanti da anni, ma la sensazione è che con il passare del tempo saranno sempre di più le attività commerciali che decideranno di rimanere aperte in giornate tradizionalmente dedicate alla famiglia relax. In effetti, nonostante le proteste, alla fine l'idea delle aperture domenicali è stata accettata a suo malgrado anche da chi invece era contrario. Certo è che se non ci fossero clienti che vanno a fare la spesa nel giorno di Pasquetta, quei negozi che sono aperti probabilmente rinuncerebbero all'apertura festiva. In definitiva, è sempre la richiesta a determinare l'offerta. Sono stazionarie le condizioni dei tre feriti che ieri sono rimasti coinvolti nell'incidente che si è verificato lungo la Bifernina nei pressi del Bivio di Lucito, Castel Mauro, Petrella. Un'auto è finita contro il guardrail che ha perforato il veicolo. Vedete queste foto nella macchina una famiglia padre, madre e figlia di sette anni che sono rimasti feriti e portati al Cardarelli di Campobasso dal 112 con codice 2. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre i feriti e rimuovere la macchina sono intervenuti anche polizia stradale e carabinieri. L'aumento dei costi, ma soprattutto l'aumento delle aree destinate alla sosta pagamento a Isernia hanno provocato l'immediata reazione di Tiziano Di Clemente che a nome del Partito Comunista dei Lavoratori parla di un ulteriore ingiustificato balzello sulle famiglie isernine già provate da una crisi economica senza precedenti. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Tariffe troppo alte, aumento degli stalli ingiustificato per non parlare delle mancate agevolazioni per gli invalidi e per i cittadini in difficoltà. Sonora la bocciatura di Tiziano Di Clemente, coordinatore del PCL alle linee guida dettate dal Consiglio Comunale di Isernia riguardanti il bando da mettere a punto per esternalizzare il servizio delle soste a pagamento. E per questo Di Clemente chiede l'immediata revoca della delibera approvata nel corso dell'ultima seduta della Sise Civica. Come è noto, l'idea del Comune è quella di incrementare il costo del ticket da 60 centesimi a 80 e il numero dei parcheggi a pagamento da 565 a 827. Un ulteriore balzello sulle classi lavoratrici locali, soprattutto pendolari, afferma Tiziano Di Clemente, spropositato per la specifica realtà locale già impoverita dalla macelleria sociale dei vari governi e giunte di destra o del PD degli ultimi anni. Facendo due condi emerge che 827 posti, se già fossero impegnati in media già per sole quattro ore al giorno, afferma l'esponente del PCL, su 312 giorni all'anno, darebbero un ricavo anno stimabile in oltre 1.032.000 euro, a fronte di un canone anno di soli 150.000 euro. Ovviamente l'affare aumenta notevolmente, aumentando le ore medie di fruizione, come è probabile che sia, e con l'aggiunta dei posti in abbonamento, non solo. Tutte queste risorse non andranno al Comune per incrementare occupazione e servizi, ma solo a profitto della società privata. Né si comprende perché il Comune non assuma la gestione diretta. Per questo motivo il PCL parla di una decisione illegittima per assenza o carenza di interesse pubblico, oltre che iniqua socialmente. I carabinieri di Capracotta durante i controlli predisposti dal comando provinciale di Isernia a Pasquetta hanno sequestrato diverse dosi di hashish e marijuana in possesso di quattro giovani che dovranno ora rispondere di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Campobasso invece hanno identificato l'autore di una truffa online di cui è rimasto vittima lo scorso autunno un 38enne che voleva acquistare un orologio su un noto sito. Un uomo di 62 anni di Pescara, con la complicità di una donna, in via di identificazione, aveva messo un'inserzione di vendita e dopo aver fornito rassicurazioni telefoniche alla vittima del raggiro si era fatta accreditare 130 euro su una carta post pay a lui intestata senza però consegnare la merce e rendendosi poi irreperibile. Dopo la denuncia il truffatore è stato così identificato. Fuoco di sbarramento e polemiche a Isernia contro la ridistribuzione dei migranti decisa dalla Prefettura che prevede l'arrivo di centinaia di profughi in strutture ubicate al centro della città. Prima Mancini, poi Fabrizio e infine anche Agostino Di Giacomo contestano il piano della Prefettura e chiedono all'amministrazione comunale di opporsi. Sentiamo ancora Enzo Di Gaetano. La notizia dell'arrivo di ulteriori migranti a Isernia ha sollevato un polverone provocando diverse prese di posizione negative. Cominciamo con Giovan Carmine Mancini che ha inoltrato un'interrogazione urgente al sindaco incentrata proprio su quella che a suo avviso è l'emergenza accoglienza. Per Mancini il paventato ingresso di nuovi immigrati considerate le dimensioni e le condizioni del capoluogo Pentro potrebbe creare criticità in ordine alla vivibilità e alla sicurezza della città. Pertanto rammenta ad Apollonio i poteri di cui lo stesso è titolare quale ufficiale di governo. E Mancini inoltre interpreta l'arrivo di altri richiedenti asilo come lo scotto da pagare per la mancata adesione allo SPRAR. Sulle modalità di gestione del fenomeno migratorio interviene anche il consigliere comunale di Forza Italia, Raimondo Fabrizio, che contesta i provvedimenti adottati e parla di un bell'uovo di Pasqua per i cittadini di Isernia. Ormai la situazione è fuori controllo, quotidianamente assistiamo a episodi di spaccio e violenza, non siamo contrari all'integrazione ma quella reale e rivolta a chi davvero ne ha bisogno. Ciò che si contesta è il business legato all'accoglienza che nella nostra città è in mano sempre alle stesse persone, guarda caso, appartenenti alla stessa area politica. Secondo Fabrizio la soluzione non può essere lo SPRAR perché a suo avviso non dà garanzie. Per questo lancia un invito al sindaco d'Apollonio ad attivarsi. Infine Casa Pound che interviene prendendo spunto dall'aggressione verificatasi alla stazione da parte di un egiziano ai danni di un migrante nigeriano. L'accoglienza è bella che fallita, queste le parole di Agostino Di Giacomo, responsabile del partito, che invoca azioni e soluzioni all'emergenza. Del sogno della società multiculturale a fonda rimane solo il business che ha arricchito a poche persone che hanno destabilizzato un'intera regione solo in nome del Dio Denaro. Bisogna avere il coraggio di rompere la cortina fumogena creata ad arte per spostare l'attenzione dal problema sociale scaturito da questa immigrazione incontrollata ad un inesistente problema razziale. Parliamo adesso della trasmissione Chilimangiaro in onda su Rai 3 durante la quale si è svolta la gara tra i borghi più belli d'Italia. Con un sorprendente sesto posto, Bagnoli del Trigno si è lasciata alle spalle. Blasonate località turistiche. Sentiamo Giovanni Di Tota. Una sfida lunga, bella e appassionante, combattuta a colpi di campanili, di castelli e di scorci mozzafiato. È la partita tra i 20 borghi più belli d'Italia proposta dalla trasmissione Chilimangiaro in onda su Rai 3 condotta da Camilla Raznovic, nella quale si mettono a confronto le eccellenze della penisola. Una per ogni regione fino alla classifica finale. A rappresentare il Molise Bagnoli del Trigno, posto incantevole della provincia di Sernia con il suo costone di roccia che disegna un paravento naturale a protezione delle case e che regala da qualsiasi angolo lo si guardi un paesaggio spettacolare e suggestivo. Un parterre di grandissimo prestigio nella rosa dei borghi proposti nell'edizione che si è appena conclusa. Sermoneta per il Lazio, Pesco Costanzo in Abruzzo, Stintino in Sardegna, per il Piemonte Barolo, Tursi in Basilicata, Altomonte in Calabria. Tutti i borghi che la perla del Molise si è lasciata alle spalle. Alla fine Bagnoli ha conquistato un prestigioso sesto posto, convincendo i giudici il geologo Mario Tozzi e il critico d'arte Filippo D'Averio con la proposta del paesaggio e delle risorse naturali, in particolare con il nuovo impulso dato alla piccola economia del paese delle piante officinali. Un segmento sul quale Bagnoli punta anche per catturare un turismo molto particolare. Aspetto folcloristico e di colore, l'origine bagnolese di un paio di migliaia di tassisti romani che d'estate tornano ad affollare questo piccolo borgo di poco meno di mille abitanti. Ma al di là del racconto di Camilla Raznovic, resta la soddisfazione per Bagnoli, i suoi abitanti e l'immagine di tutto il Molise, per un sesto posto nella classifica finale, vinta da Gradara, spettacolare paese marchigiano in provincia di Pesaro, il cui castello è una delle mete di l'Italia che trasuda storia e cultura. Poi sul podio la siciliana Castro Reale e Bobbio in Emilia Romagna, quarto e quinto Monte Isola sul lago di Seo e Furore in piena costiera amalfitana, il che rende ancora più significativo il sesto gradino della classifica di Bagnoli del Trigno. La candidatura per il prossimo anno è già aperta. Il Molise si posiziona bene, benissimo, anche nella classifica delle 150 specialità di pesce della tradizione riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali su mappatura di Federco, Pesca, dieci prodotti considerati. La nostra regione è davanti a Puglia, Abruzzo, Liguria, Emilia, Romagna e Lazio, solo per citare qualche grande regione. Sentiamo. L'Italia vero e proprio paradiso per chi ama la buona cucina. Ci sono varietà e tipicità innumerevoli in ogni regione, dalla carne al pesce, dal vino ai formaggi, salumi, qualità e quantità. Ovunque sono 150 le specialità di pesce che fanno parte delle 5.000 produzioni agroalimentari tradizionali sotto l'acronimo PAT, riconoscimento attribuito dal Ministero delle Politiche Agricole ai prodotti lavorati secondo antiche ricette. In sostanza si tratta di una mappa di produzioni di nicchia a base di pesci, crostacei e molluschi che caratterizzano in genere territori molto ristretti, tracciata da Federco, Pesca, Conf Cooperative. In questa mappa il Molise si difende bene, anzi benissimo, nonostante gli appena 35 chilometri di litorale, con 10 riconoscimenti per prodotti e preparazioni tipiche a braccetto con la Campania, davanti a corazzate come Puglia, Lazio, Emilia, Romagna, Liguria. In cima c'è il Veneto con 21 prodotti, Calabria con 20 e Sardegna con 14, Friuli, Venezia Giulia con 13 e Sicilia con 11. Quindi il Molise, il piccolo Molise a Sesto, in fatto di specialità tradizionali a base di pesce, viene riconosciuto dal Ministero tra le regioni top e i prodotti sono tanti e per tutti i gusti, dal nord al sud, considerando non solo il prodotto di mare ma anche di acqua dolce. Una gran varietà, esplosione di sapori che raccontano il nostro territorio, la sua storia culinaria. Ad esempio, tra i prodotti considerati c'è il pesce inscapece, fritto e conservato in una marinatura che si può assaporare in quella fascia di costa che comprende anche il Molise. Si è rinnovato il rito della Madonna a lungo, la tradizionale visita al santuario che si trova tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni nel martedì dopo Pasqua, una tradizione a cui i cittadini sono legati da tantissimo tempo. Sentiamo Manuela Iorio. Si rinnova a Termoli la tradizione della Madonna a lungo nel martedì dopo Pasqua, una consuetudine secolare, cambiata negli anni ma con la devozione di sempre. Una preghiera al santuario della Madonna della Vittoria, dove per tradizione si arriva a piedi con una lunga passeggiata, agevolata negli ultimi anni dalla pista ciclabile. Giornata di sole oggi che ha spinto migliaia di persone a recarsi nella chiesetta che si trova tra Termoli e San Giacomo e dove durante tutto il giorno è possibile partecipare alla messa. La festività rievoca quanto accaduto durante l'assalto dei turchi nel 1500, quando le persone in cerca di rifugio raggiungevano la chiesa in collina, che fu poi rasa al suolo proprio dai turchi. Le famiglie sopravvissute, in segno di ringraziamento alla Vergine, ricostruirono la chiesa. Oggi il pellegrinaggio si è trasformato in una festa, in un atto di devozione per grandi e piccini, ma anche nella possibilità di una seconda scampagnata dopo quella di Pasquetta. Una passeggiata come da tradizione. È una preghiera? Sì, sì, anche una preghiera, certamente. Oggi una bella giornata? La trascorrete ancora un po' qui? No, adesso andiamo a casa che i bimbi devono mangiare, quindi si rientra. Giusto una visita per tradizione. Come tutti gli anni, sì. Sono 30 anni che sono a Termoli, quindi come tutti gli anni oramai è diventata la nostra padrona, la nostra Madonna, insomma. La visita è obbligatoria, la preghiera è obbligatoria per lei, per la famiglia, come tutti gli anni è così, non può mancare, è più importante di tutto, è come la resurrezione. Abbiamo visitato la Madonna, abbiamo fatto una preghiera, la benedizione ai ragazzi, va bene così. È da 40 anni che viviamo a Termoli, quindi quasi tutti gli anni veniamo qui. È diventata anche una vostra tradizione? Sì, sì. È nostra tradizione per noi termolesi, poi figuriamoci, io da ragazza vivevo anche in questo quartiere, quindi ancora di più. È tradizione venire a comprare il palloncino, le nocelline, però soprattutto andare in chiesa. Mangiate anche qui o tornate a casa? Allora, quest'anno mi sa che torno a casa perché ho i bimbi ancora troppo piccoli, nove mesi, quindi non è il caso, ma dall'anno prossimo rinizieremo a fare la scampagnata. La tradizione negli anni è cambiata, pur restando ancorati all'aspetto religioso, oggi si viene accolto da due ali di bancarelle. Anche questo ormai fa parte della tradizione della Madonna a lungo. Cosa vendete? È un pesce marinato in acede zafferano. Prego. Che tipo di pesce? Razza, merluzzo, palombo, capidone, seppi e calamari. Come si chiama? La scapece? Capice, così viene chiamata, da mano a Federico Barbarossa. È una tradizione delle feste sempre? Tradizione del Molise questa qui. Vivo i molisani, numero uno, forza Molise! E adesso vi parliamo di un reperto, di un ritrovamento che c'è stato nell'area archeologica di Sepinum Altilia, un busto risalente al I secolo d.C. che è stato restaurato e in mostra tra altri 200 capolavori di tutta Italia nella reggia di Veneria a Torino. Sentiamo. Non era un semplice blocco di pietra uno dei tanti, abbandonato da tempo nell'area archeologica di Sepinum Altilia in un deposito all'aperto. In realtà aveva circa 2000 anni e non era semplice pietra calcarea, ma marmo, un torso di uomo in marmo bianco, probabilmente venuto alla luce durante gli scavi del secolo scorso. La dura e difficile opera di restauro effettuata da Filomena Cirelli. Pietro Lavinia e Chiara Mastropietro, con la direzione di Teresa Elena 54 della Sovrintendenza, archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, ha fatto emergere un pezzo dal considerevole peso di 125 x 90 x 45 cm, di un'opera risalente al I secolo d.C., un torso maschile in cui è ben visibile la muscolatura anteriore, soprattutto, e posteriore. Mancano braccia e testa e c'è un mantello sulla spalla sinistra fermato con una bulla. Uno schema iconografico che, a detta degli esperti, è conforme a quello del Diomede di Monaco, restituito nella sua interezza dall'esemplare Trovato a Cuma. La sua provenienza da Sepinum, scrivono Carmela Capaldi e Teresa Elena 54, non è al momento in dubbio, anche per le caratteristiche della scultura destinata alla celebrazione e di un personaggio di rilievo che depongono per una sua collocazione in uno spazio pubblico nel foro o in un edificio annesso, tesi confermata da un altro frammento simile da Sepinum. Il busto adesso è unico pezzo molisano in mostra alla reggia di Venaria a Torino, fino al 16 novembre, tra oltre 200 capolavori restaurati, tra opere di Tiziano, Van Dyck, Burri, Morandi, Pietro da Cortona e altri manufatti provenienti da tutta Italia, le 17 regioni, tra cui appunto il Molise per la prima volta e da musei importanti come quello egizio di Torino e una presenza da Dresda. È l'esposizione conclusiva della diciottesima edizione di Restituzioni, il programma di salvaguardia e valorizzazione che intesa San Paolo conduce da quasi 30 anni in favore del patrimonio artistico nazionale. La mostra si intitola La fragilità della bellezza ed è sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, organizzata con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. Intesa San Paolo per questa edizione ha collaborato con 44 enti di tutela, sovrintendenze, poli museali e musei autonomi e sono 63 gli enti proprietari, 205 i professionisti del restauro coinvolti in tutta Italia, una mostra che copre 40 secoli dall'antichità al contemporaneo. Tra questi capolavori c'è dunque anche il torso di 2000 anni fa proveniente da uno dei più importanti siti archeologici del nostro paese e non solo, Sepinum Maltiglia, Molise. È tutto, termina qui il nostro telegiornale. Dopo la sigla, le previsioni meteo, poi la linea ai colleghi dello sport, noi ci rivediamo per il flash intorno alle 15. Buon pomeriggio.